Buongiorno, mi dispiace non poter essere presente all'iniziativa perché ero già impegnato in un altro evento e volevo innanzitutto ringraziare Bernardica per questo invito e per promuovere questo festival così importante e significativo che anno dopo anno cresce e ha sempre più eco e risonanza. Il Corico è molto impegnato su tutte le tematiche della comunicazione, dell'informazione e dell'educazione digitale in particolar modo, abbiamo tante iniziative, abbiamo tanti bandi che promuovono e incentivano anche le buone pratiche di comunicazione, noi ogni anno abbiamo un bando che è la Toscana Spot dove appunto premiamo i miglior video delle ragazze e dei ragazzi toscani su determinati argomenti e temi, premiamo le migliori campagne sociali, premiamo ogni anno anche le migliori tesi di laurea in comunicazione che vengono discusse e approvate all'interno dei vari atenei toscani e in particolar modo poi siamo molto impegnati sull'educazione digitale, sulla media education rivolta alle nuove generazioni e in particolar modo alle ragazze e ragazze da Toscana e delle prime medie. In questo senso abbiamo questo progetto che è il patentino digitale che è un progetto apripista anche a livello nazionale in qualche modo di avanguardia e di anticipazione rispetto a quello che si è diffuso anche nel territorio nazionale e in altre regioni. Non a caso anche nelle prossime settimane verrà una delegazione di livello europeo, delle istituzioni europee per studiare il patentino digitale della Toscana. Praticamente è un corso online che facciamo in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti che è il nostro partner storico e scientifico per questa esperienza dove diamo gli strumenti fondamentali di base alle ragazze e ragazzi rispetto al navigare su internet, sul web in questo modo per dare strumenti per navigare in modo il più possibile consapevole e sicuro. In questo senso noi ci rivolgiamo alle scuole della Toscana in modo che sempre più ci siano disponibilità e adesione in questo senso e dall'anno scorso e poi ripeteremo quest'anno organizziamo il patentino dei che è un momento in cui restituiamo alla comunità toscana quelli che sono gli obiettivi, i fini, i risultati ma anche le criticità, le difficoltà che ci possono essere in questo senso per migliorarlo sempre più. Chiudo innanzitutto ringraziandovi di nuovo per l'attenzione e così facendo proiettare il video, l'ultimo video che ha vinto in Toscana il nostro band, la Toscana e Spot, che appunto è fatto da una ragazza di Cortona che era legato al tema delle indipendenze digitali. È un tema cruciale, è un tema strategico di grande attenzione, di grande sensibilità all'interno delle scuole e della famiglia. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.